Parte sotto una pioggia battente il Cape to Cape Motorade 2010, 24.000 km in 18 nazioni per aiutare i medici con l'Africa QAM. Sarà possibile seguire sul sito cape2cape.it l'avventura del Marco Polo Team, che percorrerà in moto il percorso tra Cape Town e Caponord. Un lungo viaggio dal continente africano al nord Europa a favore di i medici con l'Africa QAM, per finanziare una borsa di studio per un giovane medico mozambicano. Un'avventura, ma anche una grande sfida di solidarietà. Poter investire in una risorsa umana locale, uno studente, una ragazza, un ragazzo che dopo le superiori, le secondarie, possono accedere attraverso questa borsa alla facoltà di medicina, ripeto, dell'Università Cattolica di Beira, per noi pensiamo che sia davvero un investimento nel futuro di questo paese, dare speranza a questo paese, speranza che poi rimane nel paese che va a lavorare proprio in quei contesti. Non sono nuovi a questo genere di impresa i quattro protagonisti di Cape to Cape Motor Aid 2010. L'avvocato e l'imprenditore, il medico e il consulente finanziario che formano il Marco Polo Team hanno viaggiato per migliaia di chilometri negli scorsi anni, in imprese che li hanno portati a toccare Pechino ed Etiopia. Dicono ogni volta che sarà l'ultima, ma si ritrovano ogni anno più motivati che mai, nonostante i rischi e le difficoltà. Come spiego spesso c'è un prezzo molto alto da pagare per questa avventura perché ognuno di noi ha una famiglia, ha un lavoro, noi viviamo del nostro lavoro e quindi c'è sempre un prezzo da pagare familiare e lavorativo. È difficile, però l'esperienza è talmente totalizzante e emozionante che insomma poi cerchiamo di ricucire quando torniamo ai vari piccoli strappi che abbiamo combinato. Oltre agli sponsor dell'iniziativa, il Cape to Cape Motorride 2010 potrà contare anche sull'aiuto dei sostenitori che potranno, con un contributo di 5 euro, ricevere una cartolina direttamente dal Marco Polo Team.